Tra il 23 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016 la polizia ferroviaria Nissena ha eseguito 67 controlli su treni viaggiatori, sottoposto 92 bagagli sempre a controllo, ha impiegato in stazione 12 pattuglie per svolgere quotidiani servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie controllando e identificando sospetti. Sono stati così incrementati i servizi di sorveglianza con più pattuglie per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori in tutto il periodo delle festività natalizie in un momento in cui il flusso ferroviario è in aumento. È stata arrestata per un mandato di cattura emesso dalla procura di Prato una 28enne catanese ospite in un centro di accoglienza a Nisseno. Tiziana Zarelli è accusata di aver commesso una serie di rapine con alcuni complici effettuate in Toscana ai danni di vari istituti di credito. Altra accusa che pende sul suo capo la ricettazione di un'autovettura rubata poi rivenduta che era stata utilizzata per commettere le rapine. L'arresto è stato effettuato dagli uomini della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile Nissena guidata dal vice questore aggiunto Marzia Giustolisi.